Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie di questa sera e del fine settimana. Alle 21 alle OGR, Corso Castelfilardo, concerto di Vasco Brondi, sempre alle 21, passeggiata per la Legalità, da Via Stradella per Largo Giacchino, Piazza Vetta d'Italia, Spina Reale e Ritorno. Veniamo alle notizie di domani, intanto è in svolgimento e proseguirà sino a lunedì la Fiera Internazionale del Libro all'Ingotto Fiere. Domani e dopodomani ultime giornate del Circo de Cuba al Parco Carrara, in Piazza Carlo Alberto domani extravaganza, in Piazza Carlo Felice domani e domenica, primo tratto di Via Roma, il Libro ritrovato, in Piazza Bodoni domani progetto Creatività Gli Artimani, domani dalle 14 e sino alle 20 ci saranno deviazioni di percorso per le linee 45 e 45 barrato in Sant'Ela. Veniamo alle notizie di domenica 13 maggio, in Piazza Giardini Cavour, mercatino di Campania Amica a cura di Col di Retti Torino, in Piazza Capuana rassegna Cinofila, feste di via in Corso Siracusa, spasso per l'Italia, in via Dinanni, viva la mamma in via Dinanni, alle 9.30 il primo cross country Parco d'ora Running Circuit, alle 7.30 la via Monginevro, il 38esimo giro sulle strade del Colle Braida, alle 18 processione della parrocchia Sant'Agnese, da via Volturno alle 15 allo stadio olimpico Grande Torino, l'incontro di calcio Serie A Torino-Spal, per questo motivo chiude via a Filadelfia tra le 9 e le 19.30 con la conseguente deviazione della linea 17, dalle 8.15 di domenica mattina pellegrinaggio a piedi dalla Basilica della Consolata a Superga. Domenica è l'appuntamento anche importante con la Stratolino, la 42esima edizione, in partenza alle 10 da Piazza Castello, angolo via Roma, il disagio al traffico sarà limitato a due ore, sino alle ore 12 circa. Per domenica sono previste deviazioni percorso, oltre che per le linee interessate dalla Stratolino, per la linea 16 circolare destra, circolare sinistra 17.43, 45, 45 barrato, 57, 61 e 69. Direi che è tutto, buon fine settimana, buon viaggio e a lunedì!